Prosegue la striscia positiva del Valle Soverato che ha conquistato un'altra vittoria nel turno infrasettimanale a Montecchio, siamo con Alice Pizzasegola, commentiamo questo momento positivo della squadra, un momento che vi vede protagonisti e un momento che deve proseguire necessariamente domenica affrontando in casa una squadra comunque in salute e giovane come quella del Club Italia. Sì, come hai detto tu stiamo affrontando un momento positivo, importanti tre punti a Montecchio dove abbiamo fatto bene partendo appunto dalla battuta e anche muro difesa e appunto domenica ci aspetta una partita altrettanto importante perché come hai detto tu Club Italia è una squadra giovane ma con tantissime potenzialità, tanta voglia di vincere e sicuramente sono migliorate tantissimo dalla prima partita di andata quindi sarà un'altra lotta domenica. Avete avuto modo di lavorare molto in queste due settimane di sosta quindi è stata un'occasione anche per le nuove per inserirsi, per oleare i meccanismi quindi vi preparate a questo rush finale sicuramente nel migliore dei modi perché avete dimostrato anche mercoledì di stare bene fisicamente anche mentalmente, una squadra in salute anche dal punto di vista del gioco si vedono progressi domenica dopo domenica. Sì, come hai detto tu queste due settimane di pausa hanno aiutato, hanno aiutato al fisico, alla mente e soprattutto ha aiutato a inserire appunto i nostri due nuovi innesti già da Natalia che hanno fatto bene subito dalla prima partita. Infine un giudizio su questo campionato che si conferma sempre avvincente anche mercoledì nel turno infrasettimanale qualche risultato a sorpresa e lotta in vetta, voi attualmente siete settimi però ci sono pochi punti di distacco dalle altre quindi sarà tra virgolette bagarre fino alla fine. Sì, un campionato bellissimo, molto competitivo dove ogni domenica o ogni mercoledì insomma il risultato non è mai scontato perché sono tutte squadre che possono vincere contro chiunque, possono perdere contro chiunque quindi non bisogna mai sottovalutare l'avversario perché come hai detto tu la classifica può essere ribaltata da una giornata all'altra. Coach Barbieri, domenica si torna tra le mura amiche del Palascoppa, si affronta una partita che sicuramente sarà ostica contro il Club Italia, una squadra giovane ma in salute, sta attraversando un ottimo periodo di forma e mercoledì nel turno infrasettimanale ha battuto anche la capolista Mondovì. Sì, si sapeva che è una squadra che comunque nell'altro del campionato sarebbe cresciuta, sono ragazze giovani, molto giovani, si sa che durante l'anno sarebbero migliorate, tecnicamente lo sono, una squadra che ha grandissima fisicità, veramente forte a muro, in attacco, hanno grande potenza, perciò noi dobbiamo sicuramente battere molto bene e lavorare con molta attenzione a muro, quello è un fondamentale che può fare la differenza. Segnali positivi sono arrivati anche mercoledì nel turno infrasettimanale, vittoria secca e netta a Montecchio per proseguire questa striscia positiva e per rimanere attaccati alle posizioni di vetta. Sì, la cosa che è positiva, oltre ai tre punti e al risultato, è il fatto della continuità, cioè siamo partiti con un atteggiamento tecnico-tattico e l'abbiamo tenuto fino alla fine. Quello è stato un aspetto veramente importante perché è stato un processo di crescita su cui stiamo lavorando e adesso i risultati stanno arrivando. Tornando alla partita col Club Italia, all'andata si impose in maniera anche abbastanza netta il volle soverato, quali potrebbero essere le diversità rispetto alla partita di andata in questa partita di ritorno? Sappiamo che, come ha detto lei, la squadra è cresciuta, è passato un girone, ci sono però tante ragazze giovani, quindi magari è vero che sono cresciute, però magari ancora manca un po' di esperienza. Devo dire che noi l'abbiamo fatto in difesa una delle nostre migliori partite, devo dire che abbiamo difeso veramente bene e con continuità all'andata. Sì, come abbiamo già detto prima, loro sono cresciute sicuramente, tecnicamente, però noi l'abbiamo fatto altrettanto, siamo cresciuti anche come squadra, come gioco, perciò siamo fiduciosi, consapevoli che è una squadra che soprattutto ha dei momenti che sembrano incontenibili, ecco, però abbiamo visto hanno vinto, ma sempre 2-3-2 anche con Chieri, perciò vediamo di giocarla con la giusta determinazione, magari anche quel pizzico di esperienza in più che bisogna avere contro una squadra giovane. Grazie. Grazie.